Easy go E dai, qual era quel dannato numero? Avanti, avanti Rispondi, Ethan La polizia, sono nel motel Devi andare via da qui E' ancora vivo, prendetelo, riporta! Sta tentando la fuga, è sul balcone! Ehi! 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 Polizia! E' finita! In ginocchio! E mani sopra la testa! Calma, amico. Non puoi scappare. Sei circondato. Porca soia! Ehi, che problemi hai? Ehi!